L'unica riforma per la scuola sarebbe di dare gratis lo stipendio agli insegnanti in modo che stanno a casa. Non c'è possibilità per la scuola di esistere in una società reale. La soluzione della scuola è che i bambini giocano fino a 18 anni nei parchi. La loro scuola è il parco, il loro banco è l'albero, sono gli alberi. E lì in questo paese siccome a volte piove, quando piove chiunque può recarsi all'interno di queste case, casa del corpo umano, casa del cosmo, casa della creatività, casa del silenzio. E lì ci sono dei computer che danno una risposta specifica ed esaustiva su questi problemi. Ma bastano queste visite improvvise e saltuarie a produrre un'assenza del disastro scolastico. Chi è andato a scuola non sa nulla, non sa più nulla. Bisogna convincersene. Chi impara una lingua straniera a scuola la disimpara per tutta la vita. Ma perché io mi sono messo in testa di fare un'analisi della scuola? Nel libro, per esempio, Il ritorno di Pinocchio, quando la bambina chiede a Pinocchio ma perché tu ce l'hai con la scuola? Pinocchio risponde ti dirò un segreto. E la bambina dice, ma a me piacciono i segreti. Se gli alberi, i meravigliosi alberi andassero a scuola li farebbero diventare tutti pali della luce. E la bambina dice, ma senza più foglie, senza più foglie. E neanche fiori. E Pinocchio soggiunge e neanche frutti. Noi abbiamo una società infruttifera. Invece di vivere in una stupenda selva di capolavori come sarebbero gli esseri umani se venissero lasciati in pace viviamo in un agglomerato di pali della luce che sono i ruoli. Il ruolo è una bara, è un sarcofago nel quale viene racchiuso il più prezioso degli eventi che questo pianeta abbia vissuto che è l'essere umano il massimo capolavoro conosciuto almeno negli universi conosciuti poi ci siano altri universi, non lo so non è il momento di cercare questo tipo di percorso però, di fatto, avendo io avuto la preziosa il preziosissimo dono di non andare a scuola fino a 13 anni perché gli americani e gli inglesi a modo loro mi hanno fatto un regalo nel senso che hanno bombardato a tappeto tutte le scuole non c'erano scuole io non essendo andato a scuola ho visto crescere la mia infanzia insieme a me e non è stata mai interrotta questa crescita e l'infanzia è il territorio della libertà reale è il territorio della creatività e quindi ho visto sbocciare la creatività io credo profondamente che l'essere umano nasca con lo stesso corredo che ogni cosa in natura ha per essere se stessa è assurdo e paradossale pensare di insegnare a un albero come si fiorisce come si cambiano le foglie come si producono i frutti e se un albero ha in sé tutto ciò che gli serve per essere se stesso anche l'essere umano analogamente a tutto il corredo necessario per essere che cosa? per essere un'entità irrepetibile nessuno è mai nato come voi e nessuno nascerà mai dopo di voi come ognuno di voi questa irrepetibilità è stata sostituita da una forsennata e feroce omologazione dell'essere rubare a un bambino di 3-4 anni questo stupendo strumento di conoscenza del mondo che è l'età dei perché avete presente? perché la luna non ha la coda perché le miele sono rotonde perché? perché? lo capite che vivete in una società che non è capace neanche di chiedersi perché? perché? gli stati occidentali sono sempre tutti in fallimento a loro dire ci sarebbero stuoli di perché da chiedersi ma nessuno se li chiede proprio perché sono disabituati dall'infanzia a chiedere il perché delle cose perché le persone convivendo si dilaniano perché lo stato quasi con fierezza dice che il 70% degli omicidi appena nella famiglia nucleare e continuano a pubblicizzare la famiglia nucleare ma perché? perché dato che l'unica famiglia vera reale è fatta di 7 miliardi di persone pensate che pensate che ogni volta che a me capita di incontrare un essere io collegata con questo essere avverto proprio tutta l'umanità 7 miliardi di persone e dico guarda mi sta arrivando un nuovo elemento di conoscenza ma perché io ho questa sensazione? perché ho avuto l'idea di scappare di casa 17 anni col sacco appello di andarmela dappertutto in Medio Oriente, tutta l'Africa senza denaro perché chi delega il denaro chi delega al denaro la possibilità di dare una risposta ai propri desideri praticamente è morto e non a caso il ricatto principale degli stati è questo se non lavori non mangi non se non lavori finalmente sei libero di vivere che sarebbe la teorica più elementare se non lavori finalmente puoi vivere 24 ore personalmente io fuggendo di casa mi sono posto la regola che non avrei mai lavorato più di 24 ore al giorno e avendo 21 ore di tempo per vedere crescere il miracolo di un'infanzia che ti segue, ti pedina, ti sta vicino per tutta la vita io ho scoperto che non esistono colpevoli sono tutti esecutori sono tutti esecutori di una logica feroce i cui mandanti sono un gruppetto di esseri se volete vi rimando per non cadere nella trappola del comizio vi rimando a una lettera che io ho scritto e che Beppe ha prelevato lui dal mio diario che si chiama lettera ai padroni del mondo peraltro un mio amico di New York me l'ha tradotta subito in inglese io ho detto visto che avete pubblicato nel blog di Beppe l'ha letto in italiano se volete ce l'ho avuto in inglese si mette no, c'è già l'abbiamo già tradotto in inglese quindi ce l'avete in inglese e in italiano io rispondo alla scuola dicendo che il gioco è la cultura più antica che ci sia e che giocare significa scoprire il mondo ovviamente un bambino di 5 anni giocherà come ho visto fare io a un bimbo che stava facendo la sua ricerca che è stato quasi 40 minuti a fare così con un lembo di carta perché voleva capire come mai tornava indietro perché nessuno spingeva la carta lui era affascinato affascinato e si metteva in tutte le posizioni ecco a 5 anni si questo è il gioco ma magari a 14 anni uno giocherà a fare del teatro oppure a 16 a fare del cinema oppure a descrivere il mondo il gioco è la vera cultura e non c'è niente di più conturbante di una cultura che non è mai giocosa capito che è così e rigida a 40 anni potreste giocare se volete un consiglio ma io sono terrificato dall'idea che abbiate bisogno di un consiglio comunque a 40 anni uno gioca a imparare a fare l'amore perché non l'ha ancora imparato perché non c'è un discorso sull'amore gioca a lubrificare il proprio status di libertà perché è dalla libertà che nasce poi emergendo la creatività e poi gioca al gioco principale che gli compete gioca a vivere mio caro e si accorge a volte con terrore che fino a quel momento lì lui aveva accettato di esistere soltanto e non di vivere e l'esistenza è piena di ostacoli di problemi di equivoci di intemperate è piena di quello di cui è piena la vostra esistenza per capirci mentre invece la vita no la vita è molto semplice quando l'essere umano riesce a conquistare la certezza delle uniche due cose di cui ha bisogno che sono del buon cibo e un letto caldo lì comincia veramente la sua grande avventura comincia ad avere non due amici e mezzo ma un numero crescente infinito di amici non un simulacro sempre più smunto dell'amore che è la moglie ma si crea un territorio d'amore un territorio cioè si allea con una serie di persone con le quali vive un'affinità profonda e con le quali può fare l'amore tutte le volte che si incontra con esse o con essi oh, non volevo mica turbarti cosa può fare uno ancora a 40 anni? può semplicemente scoprire che non esiste un tramonto simile a un altro scoperta che quasi nessuno ha mai fatto ma ci sono infinite cose che può fare però adesso io non voglio servirti un elenco esattivo comunque se sei nell'imbarazzo telefono vieni qua che io ti dico suona tutti i campanelli del tuo caseggiato e dirgli buongiorno mi chiamo gli dici il suo nome bisogna di qualcosa io sono qua eh è un gioco fantastico e il Parlamento è il vero tribunale fittizio del mondo dove si uccidono ogni giorno centinaia di migliaia di persone tutti i giorni a parte i 35.000 bambini che ogni giorno muovono di fame in un paese come il vostro perché non è il mio dove si distruggono 500.000 tonnellate di cibo a parte che voi siete tenuti a sapere che la FAO è lì da 70 anni a discutere in banchetti che non ve li descrivo perché io sono andato una volta perché non ci credevo e allora è vero a discutere come procurare come risolvere il problema della fame intanto si vuotono 1800 navi di grano di frumento nel cielo pacifico per tenere altri per i prezzi e intanto fra le altre cose basterebbero due tazze di riso perché i 35.000 bambini non morissero di fame e invece da stamattina adesso ci sono molti altri tanti sono un miliardo a cominciare da quando la cosa è diventata noto nel 1969 da quando è cominciata anche la più stupenda avventura che sta accadendo per l'umanità in questo momento voi non sapete che vi stanno tacendo a voi che dovreste sapere tutto vi stanno tacendo che siamo entrati nell'epoca più straordinaria della storia umana che è un'epoca in cui l'automazione iniziata nel 69 dopo 30 anni di spudorato aumento dei profitti per cui il mondo economico non ha mai avuto tante valanghe di denaro l'automazione è giunta al punto da potervi dire non c'è più bisogno di lavorare l'essere umano finalmente può scoprire che il lavoro nato nei testi sacri come punizione pensate che accrocco miserabile tu hai osato mangiare i frutti dell'albero del sapere probabilmente Adamo appunto non era andato a scuola quindi sapeva e adesso guadagnerai il tuo pane col sudore della fonte ma chi è questo demente che punisce un essere umano perché sa e chi è questo mostro che lo premia perché non sa voi avete a che fare con queste due figure il demente e il mostro io mi vergogno essendo un appassionato mettiamo a capire cosa si nasconde dietro l'idea di Dio mi vergogno da parte sua della descrizione che ne viene fatta capito ammesso che ma possibile che voi non riusciate ad amare l'idea che ognuno di voi è un tesoro inestimabile che ognuno di voi contiene un agglomerato di alcuni milioni di misteri ma possibile che voi certo se andate a scuola non potete certo sapere che in un grammo del vostro corpo abitano un miliardo di esseri se lo sapeste se voi sapeste chi siete veramente e cos'è l'ambiente nel quale vi muovete voi vi svegliereste ogni giorno con un'emozione enorme enorme andate in giro senza quasi sapere come comunicare questo entusiasmo assoluto di essere parte di un miracolo straordinario che è appunto il miracolo della vita o no i miei film in Italia non sono mai usciti perché nel mio primo film si enunciavano queste due realtà c'è una scena con un cagnetto che cammina così e c'è una voce che dice ti hanno addestrato alla vita come si addestrano i cani a camminare ma la 1967 ma non solo questo il problema che io proponevo agli uomini alle donne di amarsi sì ma per sempre e questa è stata un'eresia tale perché naturalmente la mia il mio assunto non finiva lì di amarsi sempre per sempre virgola quindi a non abitare mai insieme nella stessa casa ti comunico che ti amo quindi tu abiterai a casa tua io a casa mia questo ci consentirà di dare ai sentimenti d'amore quella fragranza senza la quale si crea questa maschera di sottomissione e di depressione che hanno tutte le donne sposate tutte ce l'hanno questa maschera domandate alle vostre mamme mamma mi dai una tua foto di quando avevi vent'anni poi l'ha portata avanti allo specchio e gli dici mamma cos'è successo e lei se fosse onesta vi direbbe nulla purtroppo ma queste sono cose che vedreste immediatamente anche voi se non parlasse del parlamento come se esistesse se non parlasse del vostro ruolo come se non fosse un casuale incidente purtroppo temporaneo di un sistema che è praticamente in avanzato stato di poterefazione pensate di poter riformare perché magari o cambiare qualcosa perché magari io ho rifiutato di venire a parlare in parlamento perché voi mi avevate invitato non so se lo sapete a venire in parlamento venite voi da me voi stasera state vivendo un'emozione di pura clandestinità io sono un anonimo del ventesimo secolo che vive in clandestinità e nella clandestinità si può davvero davvero cambiare non dico il mondo ma la propria percezione del mondo e non c'è rivoluzione più straordinaria più intollerabile per qualsiasi potere di continuare ad avere dentro di sé una serenità permanente la vera immensa rivoluzione che può fare ognuno di voi non è quella di cospargere come un veleno antisettico la vostra depressione a destra e a sinistra dicendo mi sento mi sento di proporre una serenità che non crolla mai perché si responsabilizza con tutto ciò che accade sul pianeta finché ognuno di voi non si sentirà responsabile di tutto ciò che accade nelle guerre nelle menzogne più ripugnanti che il potere ogni giorno riversa nel mondo. Nel mio libro sulla mia infanzia c'è scritto, gli adulti li ho sempre visti così nella mia infanzia, sinceri nell'obbligo quotidiano alla menzogna. Quindi quando voi sarete responsabili di tutto ciò che accade, compreso soprattutto di questo vostro stare in Parlamento, che è la cosa più esecranda che possiate fare, voi sarete vittime della stessa realtà che tentate di modificare. Vedrete come starete bene a non andare in Parlamento. Quelli che altri chiamerebbero miei figli, io non li ho fatti andare a scuola, cioè li ho tenuti a casa 89 giorni l'anno, perché 90 li bocciavano. E il fatto di non andare a scuola... Mi è capitato di essere invitato a parlare con 300 famiglie a Rimini che avevano avviato questo che si chiama homeschooling, cioè non mandano i bambini a scuola. E pensate che cosa fantastica, la proposta, io ho fatto subito questa proposta che la trovo importante, che 30 mamme portano un giorno alla settimana i 30 bambini in un parco, ma 5 mamme ogni giorno, in modo che ogni mamma è libera per 6 giorni. I bambini si trovano ad avere 30 mamme, ogni bambino ha 30 mamme, pensate. Infatti io quando dico a un bambino quante mamme hai tu, lei mi dice una. E mi dice, ma se si rompe quella lì come fai? Ma non lo so, adesso lo domanderò. Io ho scoperto, svegliandomi col sacco a pelle, sotto tutti i cieli del Medio Oriente e dell'Africa, che ogni mattina c'era una persona con un piatto in mano che mi diceva, mi dava da mangiare e nel suo sguardo se era un uomo c'era un'infinita paternità e se era una donna un'infinita maternità. E quindi io ho scoperto che nella massima semplicità di una relazione non richiesta, ma che accadeva regolarmente, come se fosse programmata, c'era il segreto stesso della vita. Per cui la mamma reale è semplicemente la porta d'ingresso per avere migliaia di mamme, migliaia di padri, per arrivare appunto a questo contatto fra l'individuo e la propria universalità, e cioè con tutta l'umanità. Se voi vivete ogni giorno in contatto diretto con sette miliardi di persone, vi assicuro che non ci state più di trenta secondi in Parlamento. A Rebibbia sono andato perché i carcerati avevano chiesto che io andassi per il libro Lettera Chirghese. Fra l'altro il vostro ministero ne ha distribuito anche 250 copie, ma io vi ho regalato 600 perché ci fosse un Lettera Chirghese in ogni cella. Ma vi voglio fare un esempio. Vissuto l'estate scorsa, l'estate scorsa era agosto, io mi chiedevo ma come si può fare per stanare questi mostri che stanno al governo, al potere, eccetera? E allora sapete cosa ho pensato? Io ho pensato, adesso io descriverò come se lo facessero quello che dovrebbero fare. Io ho scritto un articolo intitolato Il Presidente della Repubblica si fa arrestare sotto mentite spoglie e trascorre i tre giorni di ferragosto a Regina Celi. Io ho narrato che il Presidente aveva capito... Il Presidente si chiama Chiedo Napolitano, il vostro Presidente. Io ho messo... Allora, lì, io ho narrato che lui aveva scoperto che c'erano 42 gradi nella cella. e quando è uscito ha detto ma è una cosa impossibile, io ho visto una cosa terribile nelle carceri. Ha detto... E' un'altra cosa che ti dirò dopo. No, questo è interessantissimo, state attenti a cosa è successo. È successo che io ho detto che il Presidente, uscendo dopo e ridiventando Presidente della Repubblica, aveva detto ma perché non si fa come in quel posto da Danimarca dove i carcerati vanno tutti in un villaggio, lo gestiscono, lavorano, fanno anche consiglio comunale, eccetera e come, diciamo, cosiddetta pena hanno che devono stare lì, insomma, vivere lì per il tempo della pena. Ovviamente, siccome probabilmente qualsiasi cosa che venga scritto Presidente della Repubblica c'è, come si chiama la tua cosa, l'Ide de Digos, insomma, c'è qualcuno che il computer lo avverte che qualcuno ha parlato ha parlato del Presidente della Repubblica. Mi sono spiegato? E quindi devono aver segnalato questa cosa qua. Di fatto, io vi posso giurare che cronometricamente tre settimane dopo io ho letto che il Presidente della Repubblica diceva che bisognava assolutamente fare qualcosa per le carceri. Risulta? E si è avviato questo discorso a mio parere veramente desolante sulle carceri perché, secondo me, l'unica pena possibile per un essere umano che comunque è solo l'esecutore del delitto è la consapevolezza del delitto stesso. Non esiste pena peggiore. Quindi metter una persona in carcere è come non so, dare un sacco di bastonate in testa a uno che ha mal di testa perché il male delle bastonate è più forte e tu soffoca il mal di testa. È una cosa senza senso da tutti i punti di vista. Se non c'è consapevolezza? Se non c'è il mal di testa? La consapevolezza, mio caro, è il risultato di una presenza sociale vera. Il lavoro si chiama labor si chiama fatica. La fatica è un avvertimento che il vostro corpo vi dà che state sbagliando qualcosa. come il dolore. Il dolore che vi viene al piede se avete nella scarpa un chiodino o un sassolino è un affettuoso messaggio per dirvi c'è qualcosa che non va nel tuo piede. Invece del del caffè o del tè c'è la possibilità di cambiare la realtà. Ragazzi è una favola. l'unico cambiamento potente che potete eseguire voi è lo stesso che posso eseguire io cioè di cambiare tutto ciò che dentro di voi è stato messo in modo vigliacco e violento sapete da chi? da chi vi ha generato dalla vostra mamma dal vostro papà dai vostri fratelli dagli insegnanti vi hanno messo dentro un sacco di cose in linguaggio orribile fra l'altro mentitore chiamando per esempio imprenditori gente che in realtà non fanno altro che prendere quindi si chiamerebbero prenditori per consolare delle persone distrutte dall'essere piegate per nove ore su un lavoro senza senso vi ha insegnato che si chiamano impiegati invece si chiamano piegati quando tutti i giorni ti svegli quando la sera hai provato a scrivere le azioni della tua giornata e dopo tre mesi vedi che stai scrivendo sempre le stesse cose anche tu c'hai il terrore di essere distrutto dall'abitudine distrutto dalla reiterazione di cose che non ti interessano perché guardate che il desiderio è la cosa più sacra che può accadere dentro di voi e il desiderio ha bisogno di essere soddisfatto capito a qualsiasi costo perché se tu desideri fare l'amore con lui per esempio che è pure simpatico e verifichi che lo desidera anche lui e non lo fai tu ti stai autostuprando capito non dare risposta a un desiderio è come fare una cosa che non si desidera mi pare che sia la definizione di stupro una donna che non desidera viene violentemente costretta o no anche quando tu desideri e non lo fai e qui chiudo la cosa perché adesso ragazzi non c'è niente di più straordinario dell'incontro ma non c'è niente di più deleterio di un incontro prolungato quindi sfuggiamo a questa tentazione assurda io vi ho fatto un accenno che secondo me del mondo nel quale io vivo da sempre da quando sono scappato di casa mi ha fatto un accenno che vi può far intuire quante cose straordinarie potete fare voi all'interno della vostra realtà ma secondo me dato che le macchine non scioperano non si ammalano non hanno lo stipendio non hanno neanche necessità di creare un sindacato dato che le macchine costruite da coloro che si chiamavano operai un tempo e che adesso non ci sono più ci sono circa 3 miliardi di esuberi fra poco fra poco il potere dovrà scegliere se gli costa di più eliminare fisicamente 3 miliardi di persone o mantenerle le idee che voi avrete per esempio direte a tutti i giovani che hanno il problema della casa ma ragazzi noi stiamo facendo per i barboni quello che voi dovreste fare per voi stessi andate a dormire in 10.000 col sacco a pelo in piazza San Pietro o a piazza Navona andate lì vi coricate d'estate magari vi coricate in 10.000 e dice noi non abbiamo casa in modo che il mondo sappia che questo paese che continua a blatterare della propria graduatoria come paese industriale eccetera costringe 10.000 giovani a dormire per strada e tutti quelli che vi dicono io non ho lavoro dite loro che la Costituzione prevede che vadano in un ristorante mangiano un bel piatto di pasta e dicano la ringrazio molto la Costituzione se lei vuol farmi arrestare lo faccia pure io avevo fame non so se la fame sia un reato però io avevo davvero fame e mangino che mangino e se gli proibiscono anche di andare nel ristorante che mangino coloro che gli vengono mandati a dire che lui non deve fare quello che sta facendo mangiano ma nel senso non in senso fisico nel senso che se tu incontri l'altro non solo non ti fa più paura ma sai davvero di che cosa ha bisogno guardate che l'unico difetto tragico di questo paese che io ho descritto qua che è dove non ho fatto altro che descrivere il mio modo di vivere attribuendolo a un popolo per capirci l'unico difetto è che questo paese non costa nulla e ha una produttività cento volte superiore a quella che gli Stati Uniti ritengono di avere e lì non ci sono le galere come si costruisce la consapevolezza del diritto che lì uno c'è uno ruba lì dove ognuno ha la casa dove le porte e le case sono aperte se uno ruba gli dicono tu devi vestire cos'è la produttività? la produttività è la capacità di dare una risposta ai bisogni dell'essere umano è tutto lì non alle necessità degli speculatori ma ai bisogni dell'essere umano e i bisogni sono pochissimi ve lo ripeto quando voi avete la garanzia di mangiare di dormire avete solo il desiderio di avere tanti amici tanti amori un territorio d'amore vero non quella farsa quella parodia della cosiddetta fedeltà che ha un odore orribile che nasce proprio dall'astinenza l'astinenza è una delle condanne più feroci che viene proposta alla donna occidentale il momento sacro della vostra vita sapete come si chiama io gli ho dato un nome si chiama è il now l'adesso l'adesso è il momento più importante della vostra vita è quel piccolissimo spazio di di immobilità in cui la lancetta del robot rimane ferma prima di passare all'altro secondo quello lì è il now che corrisponde al bosone nella materia cioè è la parte più indivisibile del tempo quella è la vostra vita ragazzi lì c'è la vostra vita e dovete dire cosa sto facendo adesso nulla madonna che meraviglia nulla perché quando voi avete conquistato il nulla sentirete il pulsare del tutto che è roba vostra oggi non so se uno di voi qualcuno mi ha detto se era mio questo cinema io ho detto no figura ti avrei perso tutto l'universo io sono proprietario di tutto meno che di questo cinema perché proprietario dell'universo è vostro l'universo tutto quello che c'è è vostro voi siete vostri non siete del parlamento o del paese non esiste non esiste vi garantisco che voi dovete sognare un'umanità che con il 5% delle spese militari si è finalmente conquistata del buon cibo è un letto caldo che ci aspetta grazie buonanotte grazie